13 aziende partecipanti che occupano quasi 800 persone, una quarantina di lavoratori stranieri coinvolti. Sono alcuni dei numeri del progetto Training for Foreign Workers, promosso circa un anno fa da Confindustria Catanzaro in Aile, centro paritetico territoriale di prevenzione, che si è concluso recentemente. Obiettivo dell'iniziativa è stato quello di promuovere e realizzare informazioni in materia di sicurezza a favore di lavoratori stranieri, ovvero quella parte di forza lavoro. Che per difficoltà linguistiche di adattamento è considerata maggiormente a rischio infortunistico. Alla presenza del responsabile regionale di Aile Emidio Silenzi, del presidente di Confindustria Catanzaro Daniele Rossi, del direttore Dario Lamanna e del presidente delle CPT Catanzaro Crotone Vibo Valenze Maurizio Scutieri, sono state tirate le somme del progetto in un'apposita conferenza stampa. Un accordo è questo progetto che è durato un anno, oggi la chiusura di questo progetto tra Confindustria e CPT è a livello regionale. E' importante perché abbiamo innalzato un po' quello che è la cultura della sicurezza, soprattutto per il mondo del lavoratore straniero. Dieci aziende hanno partecipato a questo progetto, 39 lavoratori stranieri che appunto si devono integrare al meglio all'interno delle proprie aziende. Quindi informazione e formazione. L'obiettivo della sicurezza è soprattutto la cultura della sicurezza, cercare di dare alle persone che si presentano nel mondo del lavoro più svantaggiate perché hanno carenze anche nella comprensione della lingua, di metterle nella condizione di poter avere consapevolezza dei rischi che corrono all'interno di un ambiente di lavoro. Quindi dare sì le indicazioni sul rispetto delle regole, ma soprattutto vedere le regole non già come il rispetto di una regola pure semplice, ma proprio vedere come questa regola, in realtà dietro alla regola c'è la consapevolezza del rischio che si corre in un ambiente di lavoro, che gioco forza è un ambiente pericoloso. Quindi far conoscere i pericoli significa fare il primo passo per evitare di correrli e quindi evitare di farsi male e quindi evitare che vengano spesi dei soldi dal Servizio Sanitario Nazionale, visto che c'è sempre il problema di trovare soldi per la copertura del Servizio Sanitario Nazionale, cercare di risparmiarli evitando l'incidente. Una battaglia che facciamo da anni, però anche con grandi risultati, perché in realtà la diminuzione del numero degli infortuni è stata costante nel tempo, anzi forse proprio nel momento in cui per problemi di crisi, di cose eccetera, c'è stato un certo rallentamento nella diminuzione, sì ma una diminuzione relativamente più bassa, noi ci siamo resi conto che invece investire in prevenzione, perché è un investimento, non è un costo la prevenzione, può costituire un motivo che ci consentirà forse di realizzare dei risparmi a livello proprio di Servizio Sanitario Nazionale.